Isola dei famosi Isola dei famosi, Fabrizio Corona potrebbe confrontarsi con Riccardo Fogli Riccardo Fogli è una presenza molto amata all'Isola dei famosi, e sta facendo parlare di sé per diversi motivi. . Prima il malore che poteva costringerlo ad abbandonare l'Honduras, poi il presunto tradimento ad opera della moglie e adesso un possibile confronto con Fabrizio Corona, che avrebbe qualcosa da dire al cantante. Isola dei famosi, Spy anticipa il possibile arrivo di Fabrizio Corona. . Secondo il giornale Spy, diretto da Alfonso Signorini, nella prossima puntata dell'Isola dei famosi potrebbe arrivare in Honduras Fabrizio Corona, intenzionato ad avere un confronto con Riccardo Fogli per discutere con lui del presunto tradimento di Karin Trentini. . Lo scopo della visita del fotografo sarebbe da ricercare nel fatto che lo stesso Corona avrebbe messo in giro la voce del tradimento, e possederebbe delle prove secondo le quali si evincerebbe con certezza che la Trentini starebbe tradendo il marito da ben quattro anni. . Riccardo fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una 40enne che li tradisce. . L'avrebbe perdonata anche se l'avesse fatto davanti ai suoi occhi, è normale, ha dichiarato Fabrizio Corona a Turchesando, spiegando anche di aver notato, quando Karin era sbarcata sull'isola per parlare con Riccardo, che non c'era assolutamente amore da parte sua. . Gian Paolo Celli e Karin Trentini smentiscono le accuse. . Karin Trentini ha sempre smentito categoricamente ogni accusa di tradimento, si è persino recata in Honduras per rassicurare il marito, ma nonostante questo non si sono placate nelle voci nelle polemiche, che hanno continuato a circolare con grande insistenza. . . Per questo motivo, nel corso dell'ultima settimana Gian Paolo Celli, considerato l'amante di Karin Trentini secondo tali voci, si è recato a Domenica Live per esprimere la sua opinione sull'argomento, e chiarire che tra lui e la moglie di Riccardo Fogli c'è soltanto un rapporto di amicizia. . . . . . . . . .